Signori e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, come sempre, ben ritrovati qua nel solito, usuale, inevitabile disordine della mia libreria. Allora, cari signori, finalmente dopo un anno e passa che ho aperto questo canale, mi sono deciso a rispondere ad una richiesta che mi è stata fatta più volte da utenti e amici di questo canale, diciamo che più di una persona mi ha chiesto di parlare di una cosa, dell'impresa di Alessandria, ovvero sia il 18 nella notte, tra il 18 e il 19 dicembre 1941, sei palombari italiani della decima squadriglia MAS che affondarono nel porto di Alessandria, una delle più munite basi della Royal Navy, affondarono due corazzate e danneggiarono una petroliera, un cazzatore pediniere e inflissero seri danni anche ad altre, ad altro naviglio. Si trattava di sei uomini che rispondevano al nome di, al nome di Luigi Duran della Penne, Emilio Bianchi, Antonio Marceglia, Spartaco Shergat, Vincenzo Martellotta e Mario Marino. Sei uomini a cavallo di tre SLC, tre siluri a lenta corsa, i cosiddetti maiali, per una incursione a casa, si può dire, della mediterranea fleet della Royal Navy. Una base protetta, una base considerata sicurissima, una base considerata praticamente inviolabile. Eppure i nostri incursori riuscirono a entrare nel porto di Alessandria, riuscirono a minare due corazzate, una petroliera e una petroliera che esplodendo danneggiò anche un cazzo a torpediniere e soprattutto misero in grosse difficoltà la flotta britannica nel Mediterraneo. Difficoltà che però non poterono essere adeguatamente sfruttate né dalla regia marina italiana né dalla regia aeronautica né dalle forze armate tedesche. Perché, come dire, ci furono contrasti, ci furono indecisioni. Gli inglesi riuscirono in qualche modo a mascherare l'affondamento. Perché, ricordiamocelo, le navi si adagiarono sul fondo del porto, praticamente in maniera quasi verticale e dritta, e regolarmente su queste navi veniva effettuato ogni mattina l'alza bandiera come se nulla fosse, per trarre in inganno eventuali spie a terra e per trarre in inganno la ricognizione dal cielo. Poi dopo le due navi, la Queen Elizabeth e la Valiant rientrarono in servizio e dopo mesi di riparazioni, insomma, fu una batosta non da poco, una batosta che servì a riscattare l'onore della regia marina, che servì a riscattare in parte la disastrosa notte di Taranto e che fu, insomma, la notte tra il 18 e il 19 dicembre del 1941, diciamo che fu indubbiamente la più clamorosa, la più grande vittoria della regia marina in combattimento nel Mediterraneo. Una cosa su cui praticamente si è già scritto tanto, cioè la dinamica dei fatti è ben risaputa, cioè della penne e bianchi che affondano la Valiant, bianchi che si sente male, Durand della penne che da solo riesce a piazzare la carica esplosiva del suo SLC sotto la chiglia, sotto la carena della nave inglese. Come dire, il coraggio, insomma, eroi, furono eroi della penne, bianchi, Marceglia, Shergat, Martellotta, Marino, furono tutti, indubitamente, indubitamente, senza dubbio alcuno, eroi, coraggiosi, straordinari, eccezionali eroi, per un'impresa che ha fatto epoca, che è considerata un'impresa da manuale in tutte, cioè viene studiata praticamente in tutte le accademie navali del mondo, l'impresa di Alessandria, ed è considerata un'impresa da manuale, e le tattiche degli incursori sono state riprese dagli stessi inglesi, che copiarono né più né meno i nostri SLC, i nostri maiali, ricavandone i loro chariot, che in base, che copiando, studiando le azioni dei nostri incursori della decima massa, svilupparono tattiche simili, cioè incursioni oltre quelle con i loro chariot, cioè i loro maiali venivano, le copie inglesi dei maiali italiani venivano chiamate chariot, con i loro chariot, con i mini sommergibili classe X, quelli che tentarono l'attacco alla Tirpitz, e credetemi che ci voleva un bel paio di palle per attaccare alla Tirpitz con quelle scatolette dei sommergibili tipo X, ma questo è un altro discorso. Dicevo, una azione straordinaria per coraggio, per determinazione, un'azione esemplare per preparazione, e a proposito della preparazione, mi permetto di ricordare una cosa. Voi, detta così com'è, sapete bene che l'azione di Alessandria, uno dei motivi del successo dell'azione di Alessandria, oltre al coraggio, al valore e alla preparazione dei nostri operatori, dei nostri incursori, la si doveva soprattutto alla segretezza, una segretezza strettissima, imposta a tutti i costi, da chi? Da due persone, dal comandante della decima mass, Junio Valerio Borghese, che era il capo, era l'organizzatore, era la mente, era il condottiero della decima squadriglia mass, quella che, come dire, ottenne, fece ottenere alla Marina i suoi più clamorosi successi nel corso della guerra. Perché, ricordiamoci una cosa, ricordiamoci una cosa, le nostre gloriose, potenti e bellissime unità maggiori, la Littorio, la Littorio, la Vittorio Veneto, la Roma, la Cavour, la Cesare, la Duilio, tutti gli incrociatori leggeri e pesanti, eccetera, 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 non misero mai un colpo delle loro artiglierie principali a segno sulle navi nemiche. La nostra più grande vittoria sul mare, in mare, in battaglia, diciamo, fu l'incrociatore leggero Manchester, che lo tirammo sotto con le mass, che lo tirammo sotto con le suduranti. E lo tirammo sotto con i mass. Perché le nostre unità maggiori, ricordiamocelo, nonostante qualcuno cerchi di dire «Ah, ma perché qualcuno dice che il Vittorio Veneto abbia centrato un colpo sul fumaiolo del Ramillas, un colpo sul fumaiolo della Rodney, un colpo su...» Insomma, siamo sinceri, siamo sinceri, siamo sinceri. Nel corso di tutta la Seconda Guerra Mondiale, le nostre unità maggiori non misero un solo colpo a segno sulle unità inglesi. Punto. Le più clamorose delle nostre vittorie contro la Royal Navy furono ottenute dei cosiddetti mezzi insidiosi. Le mass, le siluranti, nel caso dell'incrociatore leggero Manchester, i maiali, nel caso di Gibilterra, i barchini esplosivi, nel caso della Baia di Suda, di nuovo i maiali, come nel caso di Alessandria. E uno dei fattori fondamentali del successo di queste missioni, dei nostri incursori, fu la segretezza. E dato che nei commenti di questo canale, dei video di questo canale, appare spesso un nome, come traditore, il nome dell'ammiraglio Maugeri, io dico solo una cosa. Voi lo sapete, cari fenomeni paranormali, che accusate Maugeri di essere un traditore, un venduto al soldo degli inglesi, un informatore della Royal Navy. Ok. La spia, tanto cara ai teoremi del complotto propagandati da prima da Trezzino e poi da fenomeni che non sto qui a raccontarvi. Dicevo, l'uomo che si occupò della sicurezza, dell'intelligence, dell'intelligence, di mantenere la segretezza della missione, lo sapete chi fu? Maugeri. L'ammiraglio Maugeri era con Borghese, lavorò fianco a fianco, gomito a gomito, con Borghese per mesi per preparare l'azione di Alessandria. Il coraggio dei nostri operatori, dei mezzi insidiosi, il coraggio di Shergat, Marceglia, Martellotta, Marino, De La Penne e Bianchi riuscì ad avere successo, riuscì a raggiungere lo scopo grazie anche e soprattutto alle capacità di intelligence e di informazione fornite dall'ammiraglio Maugeri che lavorò gomito a gomito con Borghese per mesi per la preparazione di questa incursione. L'incursione del 18-19 dicembre 1941 nel porto di Alessandria fu preparata essenzialmente da due persone, due persone, Junio Valerio Borghese e Maugeri. Sì, il traditore Maugeri, quello che era al soldo degli inglesi, era talmente tanto al soldo degli inglesi che contribuì fattivamente con la raccolta di informazioni, con i rapporti delle spie ad Alessandria, con l'analisi dei rapporti di intelligence provenienti da Alessandria, riuscì a stabilire il momento esatto in cui colpire. Il merito è sì dei sei operatori che tirarono giù le due corazzate, la petroliera e il cacciator pedigliere. Verissimo. Ma il merito fu soprattutto degli uomini, fu anche soprattutto degli uomini che quella missione la organizzarono e che si occuparono delle questioni organizzative, di preparazione e di segretezza. E lo sapete a chi era affidata la segretezza della missione? A Maugeri. L'uomo che secondo certi fenomeni che scrivono a Vambera anche sul mio canale era un traditore. Leggiti from the ashes to disgrace e vergognati perché Maugeri era un traditore. Ne ho già parlato della brutta storia dell'ammiraglio Maugeri e vi consiglio di andare a rivedere il video. Ma prima di dire stupidate nuovamente sull'ammiraglio Maugeri vi ricordo questo. Il grande successo dell'incursione dei nostri SLC ad Alessandria e dell'affondamento indiscutibile di Valiant, Queen Elizabeth, della Petroliera Sagona e del cazzo torpediniere Gervis è anche dell'ammiraglio Maugeri che collaborò con Borghese per le questioni di sicurezza e segretezza e intelligence. Maugeri, il traditore Maugeri. Io voglio soltanto sapere perché quelli che lo nominano alla cazzo questa cosa non se la ricordano mai. Era talmente tanto al soldo degli inglesi che gli permisero di farsi affondare due corazzate in porto da un gruppo di giovanotti cazzuti e veramente con due palle grosse come il Titanic gli inglesi avrebbero permesso a Maugeri di fargli affondare due navi però Maugeri era al soldo degli alleati. Cazzo, vedevo di? Qualcuno ci pensa a sta cosa? Che vi devo dire? Ripeto, l'impresa di Alessandria fu un fulgido esempio di coraggio da parte degli operatori da parte dei nostri infulsori uno straordinario esempio di preparazione e di, come dire di preparazione e di attuazione di piani straordinari per rardimento e coraggio ok? E fu soprattutto un'operazione di intelligence e di segretezza da manuale e la segretezza della missione era affidata all'ammiraglio Maugeri pensateci 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 prima di starnazzare certe cose ricordatevi questo tutto qui quindi cari signori io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione mi scuserete se al posto di spiegare per filo e per segno cosa fecero i nostri incursori ad Alessandria ho puntato l'occhio su una cosa poco conosciuta della missione dello sci-re e dei suoi uomini contro le navi inglesi alla fonda nella baia di Alessandria perché era una cosa che secondo me andava conosciuta quando il prossimo personaggio che mi dirà Maugeri era un traditore gli faccio ingoiare solo metaforicamente purtroppo la testata esplosiva del siluronente a corsa che ha tirato giù la Valiant perché Maugeri era il responsabile della sicurezza di quella missione sicurezza segretezza informazioni e intelligence erano affidate a Maugeri Maugeri collaborò per mesi con Borghese alla preparazione dell'incursione su Alessandria e noi tirammo giù agli inglesi quattro navi non una quattro però il responsabile di intelligence e sicurezza di quella missione era una spia inglese a sentire certi fenomeni ma non vi vergognate un pochino un pochino un pochino un minimo sindacato un minimo sindacale di vergogna per la vostra stupidità ce l'avete? tutto qua quindi cari signori io vi ringrazio come sempre per l'attenzione scuserete se sono stato un po' polemico ma come dire sapete come sono fatto io a fare certe cose mi diverto mi diverto come un pazzo è anche più forte di me quindi cari signori io spero di avere lanciato un bel pietrone nello stagno e adesso sta a voi come dire commentare parlarmi delle vostre opinioni confutare quello che ho detto se ne avete le prove ma se non ne avete le prove forse fareste meglio voi a stare zitti ci fareste più bella figura ok? quindi signori arrivederci al mio prossimo video buonasera